Segretario, la tua ha annunciato proprio nei giorni scorsi che ci sarà, in funzione del caro gasolio, un taglio di corse nella nostra regione. Insomma, c'è stata questa reazione dei sindacati, voi siete preoccupati anche per quello che potrà essere il futuro? Sì, perché di fatto assistiamo a un taglio di corse già dal 1 gennaio 2022, non per decisione aziendale ma per carenza di organico. Di fatto la nostra preoccupazione nasce proprio da questo, cosa si dovranno aspettare i cittadini del comprensorio abruzzese. In più il Presidente paventava una riduzione di chilometri a vuoto e quanto mai strano che proprio questa governance per la riorganizzazione di alcune sedi di lavoro ha fatto sì che tua, solo per prendere servizio, oggi effettua un milione di chilometri di trasferimento a vuoto dei mezzi, che costano 2 milioni e mezzo di euro solo per andare a prendere servizio. L'azienda ha anche annunciato che verranno calmirati i prezzi dei biglietti. Sì, guardi, questo è un altro aspetto che mi permetta ma non riusciamo a capire come sia possibile. Di fatto tua non ha titolarità alla politica tariffaria, che è di competenza di Regione Abruzzo. Sarebbe come se un dirigente ASL di Pescara dicesse che non si paga più il ticket a Pescara, sostituendosi all'assessore verie. Questo capite che è un po' quanto mai strano. Su questo e su altro, soprattutto sulle nuove assunzioni, si parlerà domani in Commissione di Vigilanza. Sì, domani saremo uditi dalla Commissione di Vigilanza e speriamo in un contraddittorio che possa far emergere quelle che sono le criticità che a tuttora lasciano inermi i cittadini che subiscono tagli indiscriminati di corse e il personale di tua, nonostante si stia prodigando con straordinari, al di là del possibile e orari lavorativi che sono molto borderline, non riescono a sopperire a quelli che sono i deficit di un organico non più rimpiazzato dal 2015. L'ultimo concorso risale al 2015.